Benvenuti ad una nuova puntata di Update Espresso. Oggi torniamo a parlare di un argomento di particolare rilievo per le dinamiche del commercio internazionale e in particolare dell'accordo di partenariato transpacifico o in breve TPP. Mentre nel corso degli episodi precedenti avevamo mostrato la nostra perplessità e preoccupazione riguardo l'uscita degli Stati Uniti dal patto, gli ultimi aggiornamenti sembrano invece essere positivi e lasciano sperare per la realizzazione dello stesso, anche se orfano della sua contoparte più importante. Lo scorso mese infatti i rimanenti 11 paesi membri del TPP, che sono poi quelli originari ad esclusione degli Stati Uniti, si sono ritrovati in Vietnam in occasione del meeting della cooperazione economica asiatico-pacifica e hanno trovato un'intesa sul framework del rinnovato accordo che prenderà il nome di CPTPP. Anche se l'uscita degli Stati Uniti abbia notevolmente ridimensionato la portata economica dell'accordo, il PIL degli 11 paesi membri rappresenta comunque una fetta importante della produzione mondiale, valendo circa 11 mila miliardi di dollari o il 13,5% del PIL globale. L'intesa raggiunta rappresenta significativi passi in avanti nella liberalizzazione degli scambi commerciali tra le due aree e si stima che l'abbattimento delle barriere doganali riguarderà circa il 95% dei beni scambiati tra i paesi partner. Una maggiore integrazione economica e commerciale tra le due aree è quindi possibile e auspicabile anche in assenza degli Stati Uniti. Il nostro auspicio per il nuovo anno è che esso faccia registrare un'accelerazione del commercio internazionale e che mostri un'inversione di tendenza rispetto alle crescenti misure protezionistiche adottate nel corso 2017. Fateci sapere il vostro e arrivederci ad un prossimo appuntamento con Update Espresso. Grazie a tutti.